Grazie a una deroga ministeriale del settore pesca, il pesce dell'Adriatico sarà sulle tavole degli abruzzesi anche nei giorni delle festività natalizie. La buona notizia rivolta ai tanti consumatori del prodotto ittico locale è stata annunciata dal presidente della cooperativa giuliese Marebru, Walter Squeo. Confermo che il ministero ha dato la deroga, quasi ogni anno l'ha dato, questo anno l'ha dato un po' prima, in modo che uno pesca i sabbi le domeniche, il giorno di festa, il giorno dell'immacolata, le altre domeniche, forse anche anno nuova l'epifania. Comunque questo è per dare, come dire, una nuota italiana sulle tavole di Natale, perché bisogna consumare il pesce nostro, il pesce abruzzesi, che è buono, un mare pulito, vongole e pesce, il pesce più buono dell'Adriatico, in quanto la salinità acqua è superiore. Questa strategia è stata pensata per fronteggiare la crisi del settore ittico, limitando così il prodotto di importazione e favorendo il consumo del pesce fresco locale, vero catalizzatore delle cene del periodo di Natale. Se noi peschiamo sempre i pesci saranno stabili, i consumatori magari saranno pure un po' ammantaggiati e potranno acquistare il pesce dai banchi delle pescherie. Ci vuole la buonaccia, ci vuole la nostra costanza e, come dire, lavorano un prodotto buono per le feste di Natale. Ci sarà una grande risposta da parte dei pescatori? Tutti quanti andranno in mare durante le feste, perché bisogna consumare il pesce abruzzese, che è buono, è ottimo. Il pesce abruzzese è il migliore. Sulla questione invece del granchio blu? Il granchio blu attualmente sembrano come se è stato logizzano studiando al nord. Con il freddo vanno leggermente in letarico, si fermano. Però non bisogna abbassare la guardia, perché logicamente quando ricomincerà la primavera non sappiamo il comportamento di queste specialiene, che non abbiamo ancora avuto l'opportunità di studiare.